Una bella vittoria che ci rincuore in vista è l'arrivo domenica prossima del Città di Scordia, una vera e propria corazzata. Questo è il commento di Filippo Raciti nel dopo partita di ieri, dopo la gara d'andata e la Ragusa contro l'Avola, superata per 3-1, sfruttato finalmente il fattore campo con determinati meccanismi che sono sbloccati, anche se la squadra concretizza meno rispetto a quanto costruisce. Per Raciti la squadra è comunque in crescita, oltre ad avere ancora margine di miglioramento. I rassegno sono andati per la cronaca, il solito Rimaudo, Scerra sul calcio di rigore e Manfrè, reti arrivate tutte nel secondo tempo dopo una lunga fase di studio nel primo tempo dalle tue formazioni. Adesso l'attenzione al match di domenica prossima, sempre all'Aldocampo contro il Città di Scordia. Per il tecnico azzurro serve anche il sostegno del pubblico, vogliendo poi anche l'occasione per ringraziare tutti quei tifosi a corsi numerosi domenica scorsa a Palazzola Greve.